Il mondo dello sport ancora una volta si rimostra attento al sociale. È successo a Pistoia dove gli aderenti al locale Interclub hanno deciso di fare una donazione di materiali alla Fondazione Maria Assunta in Cielo. La consegna è avvenuta nella sede centrale della Fondazione, in via San Biagio. Oggetti accompagnati da uova di Pasqua e anche da gadget sportivi legati alla squadra nero-azzurra che hanno fatto certamente molto contenti i tifosi tra gli assistiti nella struttura che si occupa di persone diversamente abili. Come Interclub Pistoia quest'anno il direttivo ha deciso di fare una donazione al Mike apposta appunto per questo motivo per essere vicino anche a questi ragazzi che purtroppo sono con dei problemi. Al ragazzo abbiamo portato dei gadget come voi potete vedere dell'Interclub. Oltre abbiamo in collaborazione con la dottoressa Bruschi, ci siamo confrontati con loro e abbiamo portato dei libri, dei soldi finti che questi ragazzi hanno bisogno ogni giorno per la loro riabilitazione. È un materiale un pochino vario e abbiamo appunto del materiale relativo all'apprendimento dell'euro. Poi abbiamo per esempio un cartellone per imparare a usare i simboli dell'Alice perché abbiamo appunto una persona che non parla e che conosce la simbologia dell'Alice.